Scusate, puro stare attra, perché sennò non mangiare bene. Oh, eccoci qua, finalmente. Guarda che freddo. Finalmente facciamo l'eventuale della neve nel bicchiere con la saba. molto cotto eccolo qui questo buonissimo gelato una volta lo venite a assaggiare? vieni anche tu Martina vieni vieni oh guarda ma che buono ma l'hai preso pulita? ascolta ma non è mai ammessenza ma che schifo Martina è buonissima ma devo mescolarla un pochino c'è la saba c'è il musto cotto guarda Martina guarda che buono che diventa il gelato così lo assaggi tu? bene bene guarda che buono provo a sentirlo senti senti assaggiarla dai un pochino così assaggia mmmm non è buono davvero è freddo ti piace? allora cosa diciamo a tutti? buon? buon Natale nooo è freddo è è freddo